E cambiamo adesso argomento, sempre più intensa l'attività di controllo e di lotta al crimine da parte dei carabinieri durante questo mese di agosto, un periodo animato da numerosi eventi culturali e musicali e da varie sagre enogastronomiche. Vediamo. Moltiplicato l'impegno dei carabinieri sull'intero territorio molisano, quotidianamente interessato da eventi di carattere festivo, nel segno delle manifestazioni culturali e musicali e nelle tante sagre a carattere enogastronomico, perseguendo le attività di controllo del territorio e la lotta al crimine. A tal riguardo, le ultime notizie raccontano di un intervento dai militari della stazione di Palata, i quali, a seguito di una perquisizione eseguita presso l'abitazione di un uomo, già noto alle forze di polizia e residente ad Acquaviva con le croce, hanno rinvenuto e sequestrato la replica di un revolver calibro 9, sulla cui provenienza stanno cercando di far chiarezza. Altri interventi portano ad una denuncia per guida in stato di ebbrezza da parte dei carabinieri di Sandelia Pianisi, di un 42enne del luogo che intanto aveva anche minacciato ed oltraggiato i militari. Ancora i carabinieri di Mirabello Sannitico si sono recati a Ferrazzano a seguito di un incidente stradale con soli danni ai mezzi, nel quale però uno dei guidatori, un 36enne del posto, dopo aver causato il sinistro, scappa via facendo perdere le tracce. Il giovane comunque è rientrato in serata nell'abilitazione dei propri familiari, dove gli è stato contestato il provvedimento della fuga dopo l'incidente. Intanto i militari della sezione radiomobile hanno individuato e denunciato un giovane di 19 anni di origine egiziana e senza fissa dimora per un furto di sigarette in una tabaccheria di Campobasso.